Grazie alle imprenditrici e agli imprenditori della CNA di Ferrara abbiamo voluto organizzare con la massima sicurezza un flash mob contro il lockdown. Lo facciamo a Ferrara insieme a tutte le altre CNA dell'Emilia-Romagna e agli imprenditori dei settori maggiormente penalizzati dall'ultimo DPCM. Lo facciamo per mostrare il nostro dissenso sulle recenti misure approvate dal Governo. Infatti il Governo ha deciso di imporre delle nuove restrizioni. Durante l'illustrazione in conferenza stampa il Presidente Conte ha ammesso che questa è una nuova impostazione che ci porta verso un lockdown parziale, che è frutto dei dati sull'andamento dei contagi. Noi siamo per la sicurezza e siamo per avere misure importanti che vengono imposte senza il timore di arrivare di volta in volta a nuovi aggiustamenti che possono essere destabilizzanti per i nostri sistemi economici. Un futuro dai tratti incerti non fa bene a piccole imprese, artigiani e professionisti. Per questo è difficile comprendere la logica della chiusura alle 18 dell'attività di ristorazione e lo stop totale alle palestre, ai centri benessere, alle attività congressuali e fieristiche, al cinema, ai teatri e alle relative filiere. Stiamo parlando di imprese che hanno propri protocolli di riferimento, che hanno investito, nonostante un anno non certo facile, per rispettare tutte le procedure di contrasto all'epidemia. La chiusura anticipata rappresenta un provvedimento grave, che mette in ulteriore difficoltà le imprese della ristorazione, le palestre, i centri benessere e altrettanto grave è il sostanziale stop totale alle attività fieristiche, a gran parte delle filiere legate al mondo del cinema e della cultura. Sono tanti e tanti gli imprenditori di questi settori associati alla CNA che non sappiamo se riusciranno a resistere e a riaprire una volta finito questo periodo. Le richieste di CNA sono molto chiare, a partire dal ristoro totale a fondo perduto con tempi certi. Il Governo ha annunciato misure per oltre 300.000 aziende spiegando che i contributi dovrebbero arrivare entro metà novembre. Noi vogliamo che già domani il Presidente Conte del Consiglio dei Ministri ci dica quante risorse, in che modo e che arrivino subito. CNA chiede con forza che questi contributi arrivino a tutte le imprese a cui è stata imposta la chiusura, senza più ricorrere a coefficienti di fatturato o a discriminazioni sui codici a teco. Ogni settore della ristorazione, ogni palestra, centro benessere, ogni cinema, ogni teatro, ogni operatore delle rispettive filiere a partire dalla cultura deve avere la certezza di ricevere in tempi brevi i contributi dello Stato. Sono tutti colpiti in ugual misura. Ci attendiamo infine altrettanta attenzione al ristoro dei costi sostenuti dalle imprese che non potranno partecipare alle fiere nazionali ed internazionali. La ricetta per l'emergenza di CNA prevede inoltre ulteriori misure per la sopravvivenza delle piccole e medie imprese, quali stop immediato alle chiusure indiscriminate, ponendo più attenzione all'intensificazione e all'efficacia dei controlli, il prolungamento dello strumento della cassa integrazione, aggiungo con risorse che devono arrivare, non è accettabile essere fermi a maggio, la messa a disposizione di compensazioni economiche per gli affitti e una tregua fiscale in accordo con l'Agenzia delle Entrate. Queste sono le proposte di CNA, noi siamo una forza responsabile che in questi mesi ha lavorato per la tutela della salute e delle imprese e questo vogliamo continuare a farlo anche con lo slogan, sia ai controlli, no alle chiusure indiscriminate. Nessuno di noi sottovaluta il pericolo del contagio, ma anche un dato di fatto che sono state a suo tempo emanate delle linee guida che dovevano proprio garantire il distanziamento e garantire la minore diffusione possibile del contagio. Le nostre aziende l'hanno rispettato in tutti i settori, dalla ristorazione al catering, al cinema, teatri, come appunto in tutti gli eventi congressuali e fioristici, nonostante questo e nonostante in altri settori non siano state fatte le adeguate misure di prevenzione, vediamo il sistema sanitario, vediamo il sistema dei trasporti pubblici, vediamo il sistema della scuola, a causa di questo si colpisce l'effetto anziché andare a colpire la causa. In questo modo il pericolo qual è? È che ovviamente i contagi così rischiano di non abbassarsi e quindi di andare a quel lockdown totale che sarà veramente il disastro per tutte le nostre imprese e per l'intero sistema produttivo nazionale. CNA si rende perfettamente conto con i suoi imprenditori che il momento è difficile, che le scelte sono difficili, però riteniamo che non sia giusto penalizzare indistintamente tutte le attività per tanti settori che hanno investito e hanno speso per adeguarsi. Occorre, come dice lo slogan, migliorare i controlli, occorre dare le sovvenzioni senza vincoli di codice a teco, ma guardando poi alla fine dell'anno quale sarà il fatturato, il reale calo di fatturato, occorre comunque pensare anche a tutte quelle aziende che adesso non sono chiuse ma che risentiranno di un'onda lunga comunque inevitabile. Ci vogliono dei gesti anche eclatanti forse da parte dei nostri politici, pensare che anche loro potessero dare un contributo in stile personale. Io mi immagino che rinunciare a un mese di stipendio per tutti i nostri deputati senatori non sia poi così male per venire incontro a tutti quelli che in questi mesi hanno stretto la cinghia. Il suo settore è uno dei più penalizzati? Sicuramente sì, anche perché facciamo parte proprio della ristorazione a tutti gli effetti e sicuramente questo decreto non destabilizza solamente noi ma destabilizza anche il pubblico in generale e la libertà della gente che si sente costretta a ridurre anche i propri spazi di piacere e divertimento e quindi noi ci sentiamo anche nei loro confronti in obbligo di provare fino alla fine a resistere e soprattutto a convincere chi ha adottato queste misure a cambiarle perché non hanno un senso logico. La situazione è che il governo ha deciso di chiudere un intero settore, un comparto e tutto quello che è la filiera che c'è dietro a questo settore. Ci hanno definito un settore di un'attività non essenziale. Non so cosa intendono per non essenziale anche perché la mia attività come tante altre mantengono una famiglia, sono l'unica fonte di reddito per cui per me come per tanti altri è più che essenziale. È dedizione, è impegno, è amore per quello che facciamo ed è anche un modo per mantenere una famiglia con due figli come tanti altri. Grazie.